Ben trovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura del periodo barocco. Innanzitutto vediamo qual è la situazione politica ed economica del tempo. Subito dopo il 1500, in Italia c'è un periodo di crisi che porta anche alla formazione di grandi stati. Non c'è più quel panorama tipico del 400 e del 500, tutta una serie di piccoli statarelli, di ducati o quant'altro, ma c'è la formazione dei grandi stati, quindi lo stato pontificio, il regno di Napoli e quant'altro. Questo fa sì che la realizzazione delle principali opere del periodo barocco si concentri nelle capitali di questi stati. Quindi non ci sarà più una realizzazione di opere particolarmente importanti in tante città che erano le capitali dei piccoli stati, ma c'è una concentrazione di opere soprattutto nelle grandi città. E questo è da tenere conto anche di come nella situazione storica, quindi anche politica ed economica, c'è pure la controriforma, cioè la risposta che la Chiesa cattolica cerca di dare al movimento protestante. Il barocco come l'origine del termine è incerta, deriva probabilmente da una parola portoghese oppure spagnola che indicava un tipo di perla di forma irregolare. Inizialmente sicuramente era un termine dispregiativo, non era un termine utilizzato in modo positivo, proprio per mettere in risalto l'ambiguità di questo stile, l'irregolarità e un po' la libertà che gli artisti usavano nei confronti anche delle regole classiche. E questa è un po' la caratteristica del barocco. Dal punto di vista architettonico sicuramente il barocco, in molte parti del mondo, dell'Europa, è un'architettura ricca di decorazioni, molto sfarzosa, ridondante. Questo era un periodo in cui c'era proprio una cultura, possiamo dire, cerimoniosa. Quindi questa cultura di fondo si evidenzia sia nell'architettura, ma anche nella pittura, nella musica e in altre arti. L'artista barocco, dal punto di vista architettonico, cerca di modellare plasticamente le facciate, come se avesse della creta con le mani, modella la facciata con linee concave, linee convesse, e quindi esibendo proprio un grande virtuosismo stilistico. Chiaramente i risultati sono diversi da quelli del rinascimento, aveva delle regole molto più precise e molto più rigide da applicare. I principi generali del barocco sono la ricerca dello stupore e della meraviglia, questo in tutte le arti. Basta pensare anche alla musica barocca, che ne so, i Valdi, le quattro stagioni e quant'altro. La modellazione dello spazio, come abbiamo già detto, e quindi automaticamente la presenza di linee curve, molto utilizzate le linee curve. In questo schema fondamentale è il ruolo della luce, cioè la facciata di un edificio veniva progettata anche in funzione della luce, cioè di come il chiaro, scuro, il concavo e il convesso influivano nel risultato finale. Anche dal punto di vista delle realizzazioni urbanistiche, si cerca di continuare, si continua di fatto, quello che era stato fatto nel Cinquecento con Sisto V, cioè quello di andare a progettare alcuni elementi della città, che magari erano insoluti. Vedremo adesso degli esempi di Roma. Spesso proprio, per la cultura del tempo, con delle sistemazioni particolarmente scenografiche. Alcuni esempi di Roma sono sicuramente Piazza del Popolo a Roma, questa piazza da cui partono appunto il famoso tridente, Via del Corso, Via di Ripeto e Via del Babuino, con queste due di forma di fatto ellittica, anche se non è realmente un'ellisse, e con queste due chiese gemelle che scenograficamente incorniciano la Via del Corso. Ancora più scenografica sicuramente è la scalinata del Trinità dei Monti e Piazza di Spagna a Roma, con la fontana realizzata da Bernini sotto, che proprio risolve anche un problema urbano che c'era, cioè del fondale di questa strada, Via Condotti, dove c'era appunto questo dislivello. E viene realizzata questa grande scalinata scenografica, quindi con un andamento curvo, che chiaramente risolve in modo molto brillante questo problema, dandogli proprio una forma estremamente scenografica. Ancora anche la fontana di Trevi a Roma, dove questa fontana praticamente viene realizzata un vero e proprio edificio, la facciata di un edificio, e con tutte le varie modellazioni plastiche possibili per rendere questo luogo un luogo unico. Altro tema importante è quello della Piazza San Pietro. Allora, la Basilia di San Pietro era stata costruita nel 1500, insomma era già a buon punto nel 1500, e viene dato l'incarico a Bernini di studiare la piazza davanti. La chiesa, come detto in situazioni precedenti, dal progetto originale che prevedeva una croce greca, era stata allungata dal lato della piazza per farla diventare da una croce latina, quindi una forma di una chiesa che aveva innanzitutto la forma canonica della croce, e poi anche una chiesa più grande. Allora, questo faceva sì che la piazza, cioè lo spazio proprio davanti alla facciata della chiesa, non veniva più dominato dalla cupola, perché la cupola era un pochino arretrata. Allora, Bernini risolve in modo molto brillante questo tema, intanto allungando la piazza, quindi facendo in modo che la piazza vera e propria, possiamo anche vedere una foto dall'altro, la piazza vera e propria sia arretrata rispetto alla facciata, quindi dalla zona all'interno del colonnato la cupola potesse veramente dominare la vista. E poi dopo questo colonnato è come se fossero le braccia della chiesa che accogli i pellegrini, quindi aveva anche un forte significato simbolico. Oltretutto, questa piazza, se arrivava a questa piazza, come si può vedere anche nel disegno a destra, passando da una serie, non c'era l'attuale via della conciliazione, passando da tutta una serie di viuzze, per cui già oggi arrivare a Piazza San Pietro ha un grande effetto scenografico di stupore, di magnificenza per la maestosità della piazza. Immaginate, arrivando da tutta una serie di viuzze e vicoli stretti, si arrivava in questo spazio e c'era proprio questo grande effetto scenografico barocco. Il barocco romano, diciamo che, potremmo dire, tra virgolette, è il vero barocco, cioè quello che realmente innova molto, perché molto del barocco che noi troviamo, anche che ne sono le chiese dell'Umbria, è un barocco dove si lavorava molto nelle decorazioni, non nelle concezioni spaziali. Invece il barocco romano è proprio caratterizzato da una grande modellazione spaziale e dall'utilizzo, sì, delle decorazioni, ma non in modo ridondante, non in modo eccessivo. Diciamo che i due autori principali sono sicuramente anche in contrapposizione fra di loro Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini. Allora, Gian Lorenzo Bernini individuiamo due opere, tra le tante che ha realizzato, a parte una l'avevamo già vista precedentemente, che era la Fontana di Piazza di Spagna. Un'opera importantissima di Bernini è il baldacchino di San Pietro a Roma. Considerate che questa costruzione, il baldacchino, che sta all'interno di una chiesa, quindi copre l'altare principale della Basilica, in realtà è una costruzione molto grande, proprio perché la chiesa, la basilica di San Pietro è molto grande. Il tempietto di San Pietro in Montorio del Bramante può stare sicuramente sotto questo baldacchino. Questo baldacchino è caratterizzato proprio da questa grande plasticità, da queste colonne tortili, che quindi sono delle colonne che vanno in deroga a tutte le regole fino a quel momento conosciute, che tendono proprio a andare verso il cielo, a avvitarsi verso il cielo, e questa grande modellazione spaziale lo rende proprio come un'opera unica. A questo baldacchino probabilmente ha lavorato anche Borromini, che inizialmente collaborò con Bernini, fino a quanto i due litigarono, anche perché erano proprio due persone caratterialmente opposte. Altra opera importante è Sant'Andrea del Quirinale, qui è una chiesa molto più piccola che sta nella via del Quirinale, che è caratterizzata, questa è una facciata tutto sommato abbastanza piatta, però è caratterizzata appunto da questo portico rotondo d'ingresso e anche dalla pianta della chiesa che ha una cupola che è di forma ellittica. Quindi Bernini qui sperimenta proprio la spazialità del barocco. Se uno guarda questa chiesa, come dicevo prima, non è una chiesa che ha un grande eccesso nelle decorazioni, ma ha proprio una concezione spaziale nuova per quel tempo. Per quello che riguarda Francesco Borromini segnaliamo due opere. La prima è Sant'Ivo alla Sapienza, che è questa chiesa che era la sede della vecchia università della Sapienza, una delle più antiche del mondo, dove all'interno di questo cortile, in fondo, c'è questa chiesa, che anche qui è un'opera importante, perché qui c'è un grande utilizzo delle linee concave e converse, cioè la facciata ha una curvatura e dietro l'attacco della cupola ha la curvatura opposta, quindi c'è questa contrapposizione delle linee curve. E anche qui la lanterna della cupola ha tutta una forma a spirale che va verso il cielo. E anche la pianta della cupola vera e propria, come si può vedere sulla sinistra, praticamente è stata realizzata intersecando due triangoli. Poi ogni triangolo ha avuto degli arrotondamenti nelle punte, uno in un verso e uno in un altro, ottenendo così questa forma particolarmente bella e particolarmente interessante. Altra opera fondamentale di Francesco Borrovini è San Carlino alle Quattro Fontane, che sta sempre all'incrocio tra la via del Quirinale e la via delle Quattro Fontane, quindi diciamo che è a poche centinaia di metri da Sant'Andrea al Quirinale di Bernini, che avevamo visto precedentemente. Questa è una delle ultime opere di Borromini, è una chiesa molto piccola, è inglobata in un isolato, e anche qui vediamo appunto come la facciata ha una modellazione plastica, linee concave e convesse, che la rendono sicuramente molto interessante. E anche all'interno, vedete la cupola, che di fatto è una cupola ellittica, è impostata in uno spazio che è pieno di linee curve, uno spazio modellato, uno spazio estremamente barocco. Qui Borromini utilizza molto gli stucchi, al contrario di Bernini che utilizzava materiali più nobili, questa era anche una delle contrapposizioni che c'era tra i due autori. Chiaramente queste sono solo alcune delle opere, poi Bernini e Borromini realizzano molte altre opere importanti, soprattutto nella città di Roma. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.